Per quasi quattro anni alla guida dell'assessorato al demanio, il personale e il patrimonio, poi dopo un breve periodo in rotta con la giunta Marrazzo, per Marco Di Stefano è arrivata la responsabilità delle politiche per il diritto allo studio, un settore che continua a interessarlo anche oggi che siede in commissione scuola al Consiglio regionale. In difesa dei servizi gratuiti per gli studenti più meritevoli e contro i tagli inferti dal settore nell'ultima finanziaria, il consigliere PD ed esponente della corrente di Enrico Letta è intervenuto duramente nel dibattito in aula alla Pisana, elencando le cifre e i progetti cancellati dalla nuova amministrazione. Alla giunta Polverini certamente Di Stefano non recrimina il fatto di governare un periodo di crisi, ma di aver scelto di eliminare i fondi per le voci di spesa da cui dipende il futuro dei giovani cittadini del Lazio. Onorevole, lei è stato assessora all'istruzione nella giunta Marrazzo. A un anno dal cambiamento di giunta, le chiediamo un commento per le politiche che sono state intraprese dalla giunta Polverini per questo settore. Intanto c'è stata una novità importante, nel senso che sono state divise le competenze dell'assessorato. L'assessore alla formazione è anche assessore al lavoro e c'è un assessorato a parte per l'istruzione del dito allo studio. Il dito allo studio, credo che la giunta Polverini sta andando un po' sulla falsa riga del governo, nel senso che c'è un'aggressione al diritto allo studio e all'università. Cosa nota la riforma Germini e cosa nota che il governo per far quadrare i conti ha dovuto togliere circa 8 miliardi di euro sulla scuola e sull'università e questo è accaduto anche nella Regione Lazio. Nella recente finanziaria la Regione Lazio ha investito per il diritto allo studio e all'università rispetto a quello che abbiamo investito noi nell'ultimo anno che eravamo in giunta, anzi oltre 40 milioni di euro. 40 milioni di euro che pesano come un macigno soprattutto sulle famiglie deceti medio-bassi in un momento di grande crisi economica. Non si è fatta distinzione fra scuola pubblica e scuola privata, è stato fatto un taglionetto, taglio su servizi importanti, su iniziative importanti ad esempio che noi abbiamo messo in campo e che hanno una ricaduta pesantissima sulle famiglie che dovranno pagarsi per conto loro molti di questi servizi. Lei onorevole parla di nessuna distinzione fatta fra la scuola pubblica e la scuola privata, che cosa significa nel concreto? Ad esempio noi abbiamo fatto iniziative molto importanti, a prescindere se fosse scuola pubblica privata noi davamo diversi milioni di euro, ad esempio 3 milioni di euro per il comodato d'uso gratuito dei testi scolastici. Ammandavamo a oltre 400 scuole dei testi scolastici che servivano a dare questi libri alle famiglie più disagiate che non avevano la possibilità di acquistarli, per cui un freno al caro libri. La Polverini, come d'incanto, ha tagliato completamente questo capitolo di spesa. Ricordo che noi davamo 500 euro a ragazzo che aveva ottimi risultati scolastici, sempre figlio di famiglie che non aveva un reddito superiore ai 15 mila euro, 500 euro che servivano per il materiale didattico, per poter fare dei corsi all'estero per le lingue, borse di studio che noi davamo, se non ricordo male, a diverse migliaia di persone, 3 mila ragazzi della nostra regione, 3 mila, 4 mila ragazzi, anche qui con la giunta Polverini il taglio è stato completamente alzerato, 0 euro su questo capitolo di spesa. E poi c'è stato un taglio generale, il trasferimento alle province per i servizi essenziali tipo le menze, tipo il trasporto pubblico e un altro fatto gravissimo è stato il taglio che è stato fatto a livello nazionale con una rigaduta anche regionale nel mondo della disabilità. Secondo lei, visto il periodo storico, si tratta di tagli per carenza di fondi, per carenza di risorse finanziarie oppure per scelte politiche? Queste risorse sono state tagliate sulla scuola, sul diritto della scuola, è una scelta politica potrebbero essere tagliate in altri settori. Chiaramente siamo in un momento di crisi, lo abbiamo fatto, lo abbiamo passato anche noi della giunta precedente, però noi tra le priorità che abbiamo voluto mettere in campo era tagliare il meno possibile sul futuro dei nostri giovani, delle nuove generazioni, sul futuro del nostro paese e parlo di università, di diritto allo studio, di ricerca, di investimenti soprattutto per prevenire e non soltanto per reprimere alcuni problemi che ci sono nell'età adolescenziale e nella scuola, parlo di bullismo, parlo di ragazzi aggressivi. Noi abbiamo messo in campo tante iniziative con illustri docenti universitari proprio per cercare insieme ai genitori, insieme agli studenti, insieme ai docenti di reprimere queste brutte cose che poi vengono chiamate bullismo, ma altro non sono che malesseri dei ragazzi che possono sicuramente essere sconfitti se presi in tempo. Però onorevole, ci sono pur sempre i fondi della comunità europea? Nel periodo che io sono stato l'ultimo anno assessore abbiamo messo in campo circa 100 milioni di Fondo Sociale Europeo per la formazione. Devo dire che molte di quelle iniziative sono ancora ferme al palo e stiamo sollecitando l'assessore attuale, l'assessore Zezza, a metterla in campo perché sono risorse che sicuramente danno vitalità alle persone, non soltanto ai giovani, perché noi abbiamo fatto iniziative anche per chi perdeva il lavoro oltre i 40 anni, iniziative molto importanti. Ci sono due modi di intende diverso della formazione. L'attuale giunta, l'attuale assessore sta facendo impieghi ai fondi del Fondo Sociale Europeo molto in maniera passiva, nel senso dando contributi, cassa integrazione, dando soldi a pioggia a chi magari perde il lavoro. Noi e io in particolare ero di un'altra idea, io pensavo che noi dobbiamo affiancare oltre che ai contributi anche l'obbligo per queste persone che perdono il lavoro o stanno per perdere il lavoro di imparare un altro mestiere, la cosiddetta flessibilità che troppo spesso viene intesa come precarietà. La flessibilità è un'altra cosa, la flessibilità è la consapevolezza ormai in questo mondo, in questa crisi, che ognuno di noi deve essere consapevole che può perdere il posto lavoro da un giorno all'altro. Allora bisogna che la formazione, i soldi mandati dalla Comunità Europea siano investiti per dare una formazione continua durante tutto l'arco della vita. Una critica che veniva mossa dalla loro opposizione era la difficoltà all'accesso ai fondi europei e quindi al riempiego di queste risorse con progetti nella Regione Lazio. Noi in l'ultimo anno che io ho fatto l'assessore abbiamo avuto dati esattamente al contrario, forse perché io per la prima volta anche con le critiche dell'opposizione, perché stiamo in un momento di campagna attuale, ho fatto molta comunicazione. Il Fondo Europeo prevede che una parte dei soldi investiti dal Fondo Europeo siano spesi per la comunicazione, solo per la comunicazione. Io ricordo che in quell'anno fece tantissima pubblicità, tantissima comunicazione, fece il primo villaggio della formazione dell'istruzione, che è un risultato straordinario con tante scuole, scolaresche e persone che affluirono in quel villaggio e riuscirono per la prima volta a capire tutto quello che la Regione Lazio fa. Le cose che la Regione Lazio fa sono tantissime e l'importante è comunicare ai nostri concittadini che non rimangono all'interno del palazzo. Ultima occasione in cui il consigliere d'opposizione si è trovato a scontrarsi in sede di commissione è stata la bocciatura della proposta della maggioranza di adattare gli istituti religiosi a residenze universitarie. La Convenzione, secondo Di Stefano, avrebbe distratto importanti risorse regionali verso i conventi, a discapito di un modello virtuoso che in passato ha comportato l'aumento di alloggi pubblici. Recentemente lei ha bloccato la proposta di modifica a una legge da parte del Presidente della Commissione Scuola, l'On. Tarsia, per le modifiche al rapporto con le università per ciò che riguarda la materia degli alloggi universitari. Ci spieghi meglio in che cosa consisteva questa richiesta di modifica? La nostra aggiunta in Italia è che c'erano 2000 posti per ragazzi universitari, residenze universitarie. Molti di questi posti erano in soluzioni private, appartamenti, un po' sparsi qua per la città e che costavano il doppio di quanto costano invece le residenze universitarie pubbliche. La proposta che faceva la collega Tarsia, che io ho contestato e ho bloccato anche perché erano contrari anche i lettori delle varie università e si è bloccata automaticamente questa proposta, era quella di ritornare un po' al vecchio, cioè invece di aprire residenze universitarie pubbliche, cioè college diciamo così all'americana, campus, si tentava di fare una legge che queste residenze universitarie si potevano aprire magari dentro questi istituti, presso suore, predi, attraverso magari istituti che non stanno trasformati in alberghi per il giubileo e che non avendo più mercato in questo momento si potevano riciclare con le residenze universitarie. Io penso e noi pensiamo che le residenze universitarie siano un'altra cosa, siano i campus dove ci siano i servizi, dove i ragazzi possono vivere intensamente la giornata e avere non soltanto la possibilità di dormire ma fare anche didattica all'interno dei campus, avere sport, avere sale per socializzare. L'avvenire dei ragazzi dovrebbe essere costituito anche dall'occupazione, perciò con Di Stefano abbiamo toccato la trasformazione in società in house di Lazio Service, con cui la sua amministrazione ha internalizzato 1300 persone. Sulla regolarità delle procedure di assunzione l'ex assessore è pronta a mettere la mano sul fuoco, perlomeno ha tenuto a precisare per ciò che riguarda il periodo di sua competenza. Lei è stato anche assessore al patrimonio e al personale ed ha vissuto la fase finale delle assunzioni e l'internalizzazione dei lavoratori di Lazio Service. Tra l'altro lei è stato protagonista della trasformazione di quella società in società in house. Io penso che l'operazione Lazio Service sia un fiore all'occhiello della giunta precedente. Noi abbiamo trovato una società che aveva circa 900 precari, 800 precari e 100 stabilizzati forse. È una società fantasma, dove non si sapeva dove stavano i lavoratori, quello che facevano, se andavano a lavorare o se lavoravano presso magari sedi di partiti o distaccamenti politici. Noi abbiamo messo in house Lazio Service e credo che sia la prima società realmente in house di Lazio Service e forse l'unica in quel momento realmente in house. Potremmo per questa ragione dare commesse importanti a Lazio Service. Abbiamo fatto una grande operazione con i sindacali, abbiamo stabilizzato mille persone, oltre mille persone, dando la certezza del futuro a tutti, facendo un nuovo contratto di lavoro, magari anche guadagnando un po' di meno rispetto a prima, ma avendo da parte i lavoratori la certezza di avere un posto in una società per azione pubblica. Una grande operazione terminata anche con l'adeguamento del personale della Regione Lazio. Noi ogni volta che davamo una commessa a Lazio Service la giustificavamo attraverso una commissione anche universitaria, togliendo dei carichi di lavoro alla Regione e per questo motivo riducendo la pianta organica della Regione Lazio, per cui facevamo le cose fatte in maniera molto fatte bene. Avevamo la Corte dei Conti in quel momento che ci dava un'occhiata particolare. Avevamo iniziato anche l'esternalizzazione, non è perché la Corte dei Conti a legge impedisce che i dipendenti di Lazio Service possano lavorare gommi con i dipendenti regionali, avevamo iniziato a fare un'esternalizzazione, cioè i dipendenti di Lazio Service devono diventare una società di servizi e non più una società che dava mano d'opera come era in precedenza. Queste erano le finalità di Lazio Service, finché abbiamo fatto queste cose, la stabilizzazione, abbiamo messo attraverso la selezione delle commissioni universitarie, abbiamo ridotto la pianta organica della Regione Lazio, poi dal 2009 ho perso traccia di quello che accade alla Regione Lazio Service. Ricordiamo la sua uscita dall'Aggiunta. Lei, visto il periodo, teme un caso assuntopoli, un caso parentopoli anche per la Regione Lazio e per il periodo in cui lei ha assunto l'assessorato? Il periodo che sono stato fino al 2009, le assunzioni non furono tantissime perché si trattò per lo più di stabilizzazione di chi già lavorava a Lazio Service o con obiettivo lavoro, per cui era pregare un obiettivo lavoro e ho fatto un'intera stabilizzazione. Erano parenti? Amici? Tra quelli che ho trovato non mi sono messo a fare una diagnosi di chi c'era, però immagino che ci potesse essere anche qualche amico o qualche parente. E comunque importante è che le cose siano passate tutte attraverso la regolarità, nel senso che noi l'input che avevamo dato a Lazio Service come socio della società pubblica era quello di passare attraverso selezioni pubbliche e queste selezioni pubbliche devono essere, credo che siano gli atti, siano passati attraverso le selezioni pubbliche. Adesso chiaramente quando si tratta di queste società pubbliche ha sicuramente più possibilità di avere a conoscenza di nuove assunzioni chi frequenta il mondo politico che chi legge il giornale, perché chi fa queste selezioni pubbliche attraverso i giornali non specifica la società che fa le sezioni pubbliche, ma specifica soltanto le persone e l'identikit di chi deve essere assunto. Per cui chi ha possibilità di avere contatti con il mondo della politica sa che quell'azienda assume e diffonde la voce di partecipare a queste selezioni, per cui sicuramente ci sono più possibilità. Consigliere, grazie, buon lavoro. Grazie a voi.